Abbiamo un primo problema che è quello collegato alla quantità di risorse che vengono assegnate alla politica di coesione della quale il nostro Paese è uno dei principali beneficiari. All'interno di questa politica esistono alcuni programmi che in passato hanno rappresentato per le regioni del nostro Paese delle grandi risorse, delle grandi opportunità, penso appunto ai programmi trasfrontalieri Interreg che nella proposta della Commissione rischierebbero di danneggiare non poco il nostro Paese visto che per esempio è stata tolta l'addizione marittima, quindi le regioni di confine marittimo come la stragrande maggioranza delle regioni italiane verrebbero escluse. E' uno degli emendamenti insieme ad altri che abbiamo presentato e per il quale lavoreremo in Commissione con la convinzione di raggiungere un risultato importante per il nostro Paese.